Ciao ragazzi, oggi appuntamento serale in cui si parla di una panchina che unisce Italia ed Inghilterra sull'asse Liverpool-Napoli. Si parla ovviamente dell'ormai prossimo approdo sulla panchina dell'Everton da parte di Ancelotti. Ancelotti esonerato da De Laurentiis che ha scelto di virare con forza su Gattuso e Ancelotti che è arrivato a Liverpool per mettere la firma, per mettere nero su bianco il contratto con l'Everton. L'Everton che è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero poco più di una settimana fa di Silva e L'Everton che ovviamente, come è giusto che sia, non lascerà ancora per molto Ferguson sulla panchina perché Ferguson è stato preso, ovviamente non il celebre, il tarocco per così definirlo, è stato preso per fare il traghettatore, un allenatore così passeggero in attesa di un big o comunque di un allenatore che possa dare continuità e possa dare un'idea di gioco ben definita alla squadra e per me Ferguson non lo è. Però comunque diciamo che il risultato massimo che poteva ottenere ad Old Trafford contro il Manchester l'ha ottenuto domenica, quindi su questo non ci sono dubbi. Però stavo dicendo di Ancelotti, Ancelotti è stato esonerato dal Napoli e quindi per lui si sono aperte due strade, entrambe che portavano oltre manica. Una era Londra con l'Arsenal pronto a prenderlo e l'altra era appunto Leverton. Però qual è la differenza sui stanziali tra le due? Uno, Leverton non gioca le coppe. Due, l'Arsenal ha obiettivi molto più grandi. L'Arsenal ovvio ragazzi ha fatto un inizio di stagione disastroso con Emery però punta alla Champions. Poi ovvio ci sono molte squadre che ambiscono arrivare in Champions tra le prime quattro in Inghilterra e non sarà facile. Però ovviamente il fatto di giocare l'Europa League con l'Arsenal avrebbe potuto rappresentare allo stesso tempo un vantaggio e uno svantaggio per Ancelotti perché avrebbe avuto meno tempo da dedicare interamente alla squadra perché ovviamente devi fare trasferte e ovviamente ragazzi questo è un punto a sfavore però allo stesso tempo ti dà l'opportunità di metterti in mostra. Ancelotti non ha bisogno di presentazioni però magari potrebbe aver bisogno di arricchire la sua bacheca che è cosa che non ha fatto con il Napoli in questo anno e mezzo della guida di Partino Pei. Mentre con l'Everton che non giocherà le coppe ha aspettative più basse perché l'Everton anche esso è partito molto male però sicuramente non ambisce ad arrivare in Champions penso che se dovesse centrare l'Europa League l'obiettivo stagionale sarebbe stato ampiamente raggiunto considerando le ultime stagioni dell'Everton e chi segue abitualmente la Premier e proprio i Toffis in particolare lo sa benissimo. E quindi questo appunto ragazzi è un enorme vantaggio il fatto di non giocare le coppe il fatto di aver aspettatini un po' più bassi quindi per rilanciarsi per Ancelotti questo forse è la scelta migliore questa è la scelta migliore questa è l'opzione migliore però io mi sarei aspettato appunto un suo prodo all'Arsenal perché mi ricordo esattamente che proprio quando l'Arsenal era alla ricerca di un allenatore per il dopo Open Gear prima di contattare Emery si parlava molto di Ancelotti che tra la parentesi della parentesi tra l'Esono e al Bayern e la prodo al Napoli ci sono stati circa 7-8 mesi di tempo in cui lui ha valutato tante offerte le più importanti l'Arsenal e la Nazionale italiana alla fine ha declinato entrambe per andare a virare su una nuova ipotesi in Italia che poi alla fine si è rivelata assolutamente non vincente non voglio dire fallimentare però non vincente lasciatemelo ragazzi per Ancelotti comunque per me è una buona scelta l'Everton è una buona squadra che ha buoni singoli ha tanti, 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 tantissimi talenti in squadra ovvio è difficile farli coesistere tutti nella stessa formazione anche perché l'Everton da molti anni fa un mercato splendacione splendendo a destra manca però ovvio magari non fa un mercato ben strutturato come potrebbe fare una squadra che so italiana che non ha un budget così elevato e penso che Ancelotti comunque l'Everton si troverà bene dovrà risolverlo subito in vista comunque dell'obiettivo stagionale che deve essere raggiunto nonostante tutto però a me Silva è sempre piaciuto così come è sempre piaciuto Emery entrambi gli allenatori sono stati cacciati vi ringrazio per averlo visto vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale ciao a tutti ciao a tutti